Lei lo conosce Matteo Tonelli? Certo che lo conosco. Da quanto? Da appena nato. E non si può manco descrivere, per quanto vuoi fare. Gli avete fatto una bella festa, eh? Senz'altro. Te femminucce, era solo maschietto, è cominciato a allenarsi piano piano. E poi è un gambioncino italiano e papignese. So che lei, che è un'istituzione naturalmente per tutti i ternani, ha fatto la porchetta a Matteo Tonelli per i suoi 18 anni. Esatto, solo per lui l'ho fatta. Per dieci anni che ho lasciato l'attività, solo per lui ho fatto la porchetta. Cominciamo dalla medaglia d'oro. Eccola qua, campione del mondo di canottaggio under 23 nel 4 di coppia pesi leggeri. Matteo Tonelli, buongiorno. Buongiorno. Ci spieghi innanzitutto cos'è il 4 di coppia pesi leggeri per chi non lo conosce? Allora, il canottaggio sostanzialmente sono due diverse fazioni. La coppia, che è con due remi e si fa senza timoniere solitamente. E poi c'è la punta, che invece è con un remo solo e può avere anche timonieri, eccetera. Quindi un'altra persona in barca che... Quelle equipaggi in cui quattro persone tengono due remi e non c'è il timoniere. Esatto, sì. E poi pesi leggeri perché devono, come nel pugilato, come nel karate, eccetera, devono tenere un range di peso che arriva fino a 72,5, però la media barca è 70 kg per i maschi. Quindi sostanzialmente deve esserci una media barca che permette di tenere 70 kg fissi. Allora, siamo a Popigno e Matteo Donelli si è allargato campione del mondo Under-23 di canottaggio a Varese e il tuo paese di nascita ti ha fatto una grande accoglienza. Sì, sì, è stata molto inaspettata. È stata una bellissima sorpresa e infatti ringrazio tutti i paesani perché nel loro piccolo tutti quanti hanno contribuito. Senti, ci racconti un po' com'è andata questa gara. Partivate favoriti, adesso questo si può dire, avete vinto le batterie di qualificazione con grande margine e poi avete dominato la finale sostanzialmente. Noi siamo detti dopo la batteria che saremmo dovuti rimanere capiti a terra e non dovevamo sostanzialmente pensare che fossero tutti battibili, eccetera. Quindi non sottovalutare mai gli altri avversari. Vedendo i recuperi che hanno fatto gli altri ci siamo un po' rilassati e abbiamo affinato la tecnica in tutti i giorni di allenamento e abbiamo detto che siamo andati a una tattica di gara, che era quella di partire forte per sorprendere ancora di più gli altri, anche perché tutti avrebbero poi fatto la gara su di noi. Quindi siamo partiti ancora più forte, con quasi lo stesso distacco e poi devo dire che la terza voga, che è quello a cui avevamo detto di chiamare gli allunghi, rinforzi, eccetera, devo dire che ha letto la gara molto bene. Infatti abbiamo fatto allunghi su allunghi e abbiamo preso ancora più vantaggio. Poi ovviamente gli ultimi metri ho visto sul cronometro, ho visto che stavamo molto bassi di tempo e quindi abbiamo deciso di chiudere e andare a strappare anche il record del mondo. Non c'era il timoniere, però eri, diciamo tu, il punto di riferimento. Sì, il timone, alla fine la direzione la facevo io perché il timone lo hanno messo alla prima voga, quindi a me, e quindi diciamo che ero io il timoniere in barca, ecco. Ecco, non abbiamo sottolineato che il tempo, il nuovo record dei campionati mondiali Under 23, quindi insomma questo va pure dentro. Sì, sì, abbiamo abbassato un secondo abbondante dallo scorso record, erano gli svizzeri nel 2017, l'avevano fatto. Adesso passi alla categoria senior e quindi eri, diciamo, dei quattro il più esperto, quindi anche un carico di responsabilità maggiore. Sì, anche perché comunque non essendo la prima esperienza internazionale loro magari si aspettavano da me anche una conoscenza migliore del campo, di come gestire il peso a livello internazionale, eccetera, perché comunque un campo internazionale è diverso da un campo nazionale o regionale. e hai più persone, più possibilità di sbagliare qualcosa e poi se sbagli e i giudici ti ammoniscono, poi butti via un anno di preparazione per un errore magari anche banale, ecco. Senti, sei un peso leggero, però è vero che hai iniziato a fare canottaggio perché da bambino eri un po' cicciottello? Sì, si chiede anche ai signori del paese, te lo confermano. Lei lo conosce Matteo Donnelli? Certo che lo conosco. Da quanto? Era appena nato. Com'era da bambino? Sempre stato un ragazzo retto. Un ometto nato. Che orgoglio è un papignanese sul tetto del mondo? Come ha scritto lì? Eh, non si può manco descrivere, per quanto è felice. Gli avete fatto una bella festa, eh? Senz'altro. Grazie. Prego. Lei che dice di Matteo Donnelli? Matteo è come lui, l'ho visto a Nasce. Poi un ragazzo che è stato sempre serio, sempre solo, perché non c'è avuto altri colleghi dell'età sua. Te femminucce, era solo maschietto. E' incominciato a allenarsi piano piano. Lo venivano a prendere, lo portavano a piedi lungo, lo facevano allenamento, poi alla sera lo riportavano giù. Se fermava qua, su un muricciolo a sede, aspettarli. Ma io ho sempre fiducia, non lo so perché, questo qui è un ragazzo che va, che dovrebbe emergere, infatti non mi sono sbagliato. E poi è un gambioncino italiano e papignese. Sono felicissima perché è un ragazzo meraviglioso e anche da piccolo, era bellissimo, sempre riservato, educatissimo, per me se l'è meritata tutta. Ma è vero che era cicciottello da piccolo? Ma era normale, era normale. Sì, ho iniziato perché sostanzialmente mi serviva uno sport anche per passare il tempo e poi dopo è diventata una passione man mano andando avanti. Ho iniziato a maggio 2013 e ancora lo faccio. Aspettavi qui al muretto che passava il pulmino, ti prendevano, ti portavano a Piediluco, facevi il tuo allenamento e tornavi a casa. Era questa più o meno la tua giornata? Sì, sostanzialmente sì. In scuola, poi alle tre e mezza aspettavo il mio allenatore Fabio e poi andavamo su a Piediluco e sostanzialmente ci allenavamo fino alle sette e alle sette riscendevamo. Quindi a parte il peso che hai perso, cioè hai guadagnato sotto altri punti di vista. Sì, anche in perseveranza comunque. C'è il giorno in cui va male a scuola e allora vai su e ti isoli sostanzialmente in barca, sei tu da solo e quindi ragioni eccetera. Oppure ci sta che va bene a scuola e poi vai su e diventa pesante l'allenamento. Comunque però devi portarlo al termine sia l'uno che l'altro alla fine. Invece due anni fa ti sei trasferito a Torino per motivi di studio, fare università, scienze politiche. Era proprio diciamo il periodo del primo lockdown per il Covid se non ricordo male, insomma i primi mesi del 2020. Ecco, quanto è stato difficile trasferirsi a Torino in quel momento poi? È stato anche molto difficile a livello scolastico chiudere il quinto anno in lockdown. allenarsi in lockdown, studiare e poi dopo ovviamente trasferirsi anche in università, iniziare l'università in didattica a distanza, che credo che sia la cosa peggio purtroppo. Anche perché quest'anno abbiamo ricominciato bene o male ad andare a lezione in presenza e devo dire che è tutta un'altra cosa comunque. A fine vedere i compagni, conoscere, vedere dal vivo i professori, scambiarci le parole con i professori eccetera, non con le email. Comunque poi anche il fatto di cambiare città con il lockdown è stato parecchio dura perché quando sono salito a novembre io ho preso il Covid e ho dovuto fare la quarantena da solo in casa con i miei inquilini. Ti manca terni ogni tanto oppure non ci pensi? No, sì sì, sì sì come no. Poi ovviamente torno molto spesso quindi per le feste, per le gare, anche perché le prime tre gare dell'anno sono qua quindi a piedi luco. Quindi poi ovviamente torno sempre a casa. Dicono pure che la delegazione italiana ha dovuto rivedere i parametri dei festeggiamenti da una birra per ogni medaglia, una birra ogni due medaglie perché certo tutto per la mattina... Anche perché mentre il direttore lì della sezione Under 23 ci faceva il discorso nel frattempo gareggiavano le sue atlete in due senza pesi leggeri anche lì hanno sradicato il record del mondo che c'era assoluto dal 1997. Una birra media diciamo almeno... Esatto, almeno loro erano due, noi eravamo in quattro. Sedi, a proposito di piedi luco, l'aco che ti sta molto a cuore, spesso e volentieri hai sottolineato la necessità di una completa e totale valorizzazione sia dal punto di vista sportivo che non solo per questo specchio d'aco. Tu sei giovane però è a cuore molto questa causa. Sì, perché comunque ci sono nato, adesso stando anche a Torino ovviamente ho potuto vedere nuove strutture, diverse da queste che abbiamo a Terni, anche perché il custo Torino è molto... e diciamo che è un CLT molto più grande, anche perché lì è una polisportiva, eccetera... e diciamo che non... credo che non sia valorizzata la sufficienza piedi luco, ma molto potenziale. Anche... cioè, come dicevi tu, sono molto legato, infatti quando sono sceso al meeting, al primo meeting che ho visto che avevano rifatto la torre, sono proprio rimasto estasiato, perché vedere prima quella torre che stava lì dagli anni 70 e vedere adesso questa nuova torre tutta in ferro, eccetera, è molto... cioè è molto rincuorante, anche la federazione che è stata rifatta e... diciamo che ne sono rimasto molto contento, ecco. Senti, fammi vedere bene un attimo la medaglia, allora... Ehi, questi sono cinque remi che credo simboleggiano i cinque cerchi olimpici e dietro c'è... World Rowing Under-23 Championship. Esatto, a fare sì. Senti, adesso salto nella categoria dei grandi, ti preoccupa? Assoluto. Se la dicessi assolutamente sì. No, un po' mi preoccupa, perché comunque... sono tutti... diciamo, big del cantaggio per si leggeri, quindi gente che ha fatto anche due o tre olimpiadi e quindi diciamo che... sarà molto dura entrare nel giro, ecco. Però abbiamo un anno di preparazione e la sfruttiamo tutta quanta. Tanto un po' un po' di vacanza adesso. Sì, sì, adesso un po' di vacanza. So che lei, che è un'istituzione naturalmente per tutti i terreni, ha fatto la porchetta a Mattadonelli per i suoi 18 anni. Esatto. Solo per lui l'ho fatta. E' inutile dirgli se era buona, perché... In dieci anni che ho lasciato l'attività, solo per lui ho fatto la porchetta. Campione del mondo. Campione del mondo, ma io l'ho visto da nascere questa ragazza. E come era da bambino? Era irrequieto. Irrequieto? Adesso è una grande persona. È un ragazzo ancora, ma è una grande persona. Grazie alla porchetta De Luzzi. Grazie, grazie. Buona giornata. Buongiorno, scusi, no, volevo solo vedere la foto di Matteo Tonelli a Pesta, l'alimentario del paese. Eccolo qua. Questa Matteo, eh? E' il primo europeo nel 2017. Davanti a Rigione. Sì, è la prima esperienza internazionale insieme a Francesco Molinari. Un'altra delle CLT che si è spostata a Pavia, esatto. Che ne pensate di Matteo Tonelli? Chi è? E' lui. Lui, campione del mondo di canottaggio, di Papigno. E' un grande, è un grande ragazzo. Lo fa lo sconto quando viene a fare la spesa qui. Certo, certo. Casa tua quale sarebbe, Matteo? Aspetta. Lì sopra, dopo questa casa qua. E questa invece è la casa di mia nonna. E l'altra nonna invece vive dall'altra parte del paese. Quindi tutto qui a Papigno. Ho visto una bandiera dell'Italia da un balcone. Sì. Sì, se l'hai visto da sotto, sì. E invece nonna l'ha messa di là. Questa è casa mia. Quelli sono i miei cani che abbaiano. E questo invece è il bel vedere che hanno rimesso a posto da pochi anni. E qui hanno rifatto tutta la pavimentazione, tutto il muro. E comunque... Mi dicevano i signori al bar che da piccolo ti mettevi al muro e ti aspettavi che ti portassero all'allenamento. Avevi un ragazzo molto tranquillo, educato. Sì, aspettavo sotto... Ci avevi tanta compagnia maschile, ma non erano tutte femminucce. Sì, erano tutte, esatto. C'eravamo solo un ragazzo, due maschi. E mettevo sotto casa di nonna, il pulmino passava lì e andavo su tutti i pomeriggi oppure d'estate anche al mattino, eccetera. Comunque Matteo, Papigno è veramente bellissimo. Piace a molti, piace. Quindi, comunque, è l'esempio della storia che abbiamo qui nella Valnerina, alla fine. Perché per rifugiarsi da tutta la paluta che c'era sotto, facevano tutti i paesini in alto, alla fine. Ad esempio Arrone, con l'estate, l'Orzina, Montefranco, sono tutti in collina. Quest'altra bandiera italiana? È a casa di mia nonna, esatto. Ogni volta che prendo medaglia la mette fuori, anche a regionale, campione italiano, tutto. Grazie. 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 Grazie.